Vieni con me, ti porto a fare il giro del mondo in un solo giorno e alla fine del video vedrai qualcosa di davvero particolare. Sono infatti andato al TTG Travel Experience a Rimini dove ho potuto trovare tutte le realtà più importanti del turismo italiano e internazionale. Una fiera enorme dove poter visitare virtualmente tutta l'Italia da nord a sud per conoscere location, tour operator e incredibili escursioni per poter scoprire le meraviglie del nostro paese. E poi ovviamente perché non andare all'estero? Infatti c'era veramente di tutto da ogni angolo del mondo e ogni stand aveva qualcosa di particolare per attirare l'attenzione come mega schermi immersivi e ricostruzioni che ti permettevano di sognare di viaggiare in quel paese. Ovviamente ogni stand permetteva di assaggiare qualcosa e io naturalmente non mi sono fatto pregare e di base mangiavo e bevevo ogni tre metri. Sì, lo so, senza vergogna. E poi ho incontrato un amico che ha iniziato a seguirmi per offrirmi delle caramelle. Una fiera davvero molto grande e molto interessante per conoscere tantissime realtà del turismo nazionale e internazionale. E tu in quale parte d'Italia o del mondo vorresti andare o stai per andare? Fammelo sapere nei commenti!